ciao anto ciao ricky allora benvenuti a un'altra puntata di hummus stavo giusto pensando triste sì questo è un saluto un saluto sì un saluto la gente fuori che ne sa da bambino io ho visto avevo nove anni direi un po più triste da bambino io ho visto a nove anni questo film che si chiama il silenzio degli innocenti con questa straordinaria jodie foster che andava a fare domande no sta per scoppiare a ridere annibal no al cannibale ok e io da lì ho detto voglio fare lo psicologo e sai cosa c'entra con l'ospite di oggi che non è uno è uno psico falidraulico è un calciatore è un maniaco è un maniaco un po diciamo che non c'entra proprio niente con il nostro ospite di oggi che è il dottor cristian drusiani senti un po cristiano allora tu sei psichiatra ok allora per i più perché spesso non devo dare la differenza tra psicologo e psichiatra potrebbe essere me lo chiedono da 1999 quindi sono 24 anni dai lo chiedono da un medico quindi do i farmaci faccio diagnosi e faccio cura e quindi sono diciamo un medico ho fatto sei anni di medicina e quattro di specialità e invece lo psicologo si occupa del sostegno della psicoterapia con le parole con e con non so l'approfondimento della storia le dinamiche relazionali io invece faccio una diagnosi tanto è che la maggior parte del mio lavoro si svolge dentro un ospedale quindi faccio vedo delle persone che possono avere anche dei problemi di tipo di salute e questi determinano problemi psichiatrici e così via applauso Спасибо ho meno pazienza di Jody Foster anche un po meno paura alcune volte ho avuto paura però lei era abbastanza terrorizzata c'era anche il vetro davanti quindi hai avuto paura sì parliamone ho avuto paura una volta che un paziente a cui ero molto affezionato nel cortile della torre su una panchina mi disse tipo adesso non mi ricordo io ti vengo addosso con un camion però con uno sguardo questi occhi azzurri vedi ti ho detto che non mi ricordavo gli aneddoti me ne è venuto subito uno gli occhi azzurri e questa faccia molto inquietante e io ho detto ho guardato quando eravamo distanti eravamo abbastanza distanti poi con molta plomb e gli ho fatto un TSO TSO ok allora il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio coraggimi Cristian sì gli ho fatto un TSO un po' sbligativo cioè ci sono state tutte le pratiche devo spiegare che cos'è un TSO no 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 più me ne mettono il trattamento sanitario obbligatorio cioè questa persona stava male perché ovviamente mi voleva mi ha aggredito perché era paranoico nei miei confronti pensava insomma che io volessi fargli del male eccetera e quindi gli ho cioè gli ho fatto ricoverare attraverso una procedura con altri dottori eccetera contro la sua volontà tu lavori sia in ambito di reparto quindi in una clinica in una clinica Villigea Villigea di Modena e anche collabori quindi con ad esempio il CEIS che ha le comunità le strutture e tu lavori anche all'interno di queste strutture lo dico perché così facciamo sì esatto in realtà ho iniziato forse quasi contemporaneamente insomma subito dopo la specialità e quindi ho portato sempre avanti per tutti questi anni queste due un doppio ruolo un ruolo più insomma proprio medicalizzato quindi proprio con il camice all'interno della clinica un ruolo un po' molto più da un certo punto di vista informalmente relazionale all'interno della comunità quindi sia prevalentemente l'actor poi un po' al cod da 2008 un po' un bel po' da 15 anni e poi ancora più avanti ho lavorato insomma sto lavorando anche alla barca da vari anni poi ho fatto varie cose in tutto questo tempo di CEIS quindi dall'ambulatorio Tognolo a casa San Lazzaro un pochino al via Martignano dove c'erano gli stranieri rifugiati insomma varie cose di cui c'è stato bisogno perché 20 anni sono lunghi affezionarsi dicevamo può diventare uno strumento l'hai usato lo usi forse è stato il motivo per cui ho fatto questo lavoro cioè nel senso che l'area affettiva la parte dell'interesse nei confronti della storia delle persone dei loro vissuti delle loro sensazioni è stato un po' quello che mi ha avvicinato alla psichiatria in quanto io avevo iniziato a studiare come ortopedico ma lì si trattava esattamente del contrario quindi di un approccio solo proprio tecnico al corpo le ossa le viti le chiavi i bulloni ma non sapevi nemmeno il nome della persona che avevi davanti quindi questa parte mi aveva veramente lo sentivo completamente distante da me e sono andato quindi nella direzione esattamente opposta dove il corpo praticamente c'entra ben poco comunque è la cosa a cui si si fa molta più attenzione e tutto il resto e quindi poi forse questo è secondario anche un po' nei miei doti di tipo relazionale più che quelle di grande clinico studioso eccetera che sta sui libri o fa dei corsi o si aggiorna io ho fatto sempre un lavoro anche molto di pancia e un po' mi ha aiutato il Chase anche in questo perché appunto insomma mi ha cresciuto nel capire che lo psichiatra non è il medico che prescrive i farmaci ma insomma aiuta le persone semmai in termini anche un po' educative infatti mi sento di aver fatto all'interno del Chase molto anche l'educatore il medico educatore più che solo il medico tra le due dimensioni quella di reparto e quella militante nelle comunità hai preferenze? adesso sono un po' rotta con il reparto perché è molto pesante perché si ha a che fare proprio sempre con persone molto anche aggressive quindi il fatto della delite della discussione è dopo 20 anni abbastanza frustrante perché tutti i giorni insomma c'è sempre questo tema dell'obbligo delle cure della persona che non vogliono curarsi quindi sono un po' stanco e è un lavoro che ovviamente ti porta a avere più a che fare con i farmaci con l'uso del farla di angelo quindi un po' più medico ovviamente mi è piaciuto e mi piace ancora sono molto stanco di quella parte lì sull'educatore c'è più da mettersi in gioco come persone però andare a fare solo il prescrittore di farmaci non è mai appartenuto mi è appartenuto sempre appunto anche fare più lavoro un po' più generale ecco sulle fragilità sulla motivazione cosa ti piacerebbe fare avendo una bacchetta magica sul gelataio si si se potessi scegliere farei il cantante canti bene no però sono un po' intonato però non lo verificheremo oggi quindi non lo saprete mai peccato se volevi fare due rimetti ti metto l'autotune poi un po' però mi sarebbe piaciuto un sacco fare non so scherzando il cantante e il gelataio la figura dello psichiatra secondo te dai più oggi dalle masse come viene percepito beh adesso siccome è un po' cambiata probabilmente anche per il covid per le problematiche economiche perché poi non siamo più così ricchi perché c'è molto stress per i social per i like su instagram il disagio è aumentato e quindi c'è un po' più di tranquillità rispetto al dire vado dallo psichiatra eccetera e comunque l'ovest l'america eccetera è un territorio dove c'è un uso molto marcato di psicofarmaci e quindi lo vedo una cosa che è più accettata ecco rispetto ai primi anni dove lavoravo in quanto appunto c'erano le varie insomma i vari luoghi comuni sul matto vengono tutti insomma dal professionista all'insegnante alla pensionata cioè anzi forse a volte c'è un po' un abuso della ricerca di risposte da parte degli altri più che a trovarli in se stessi su me vanno tutti troppo dallo psicologo non è perché ho dei pregiudizi verso gli psicologi no ci mancherebbe che tanti ascolteranno questo quindi li saluto tu fai anche privata professione quindi gli insegnanti la lista di persone e di insegnanti donne lasciate dal loro compagno oppure che hanno donne tradite uomini lasciati insomma queste cose più relazionali che spesso semmai dovrebbero essere gestite dalla persona dall'individuo invece l'individuo non ce la fai chiede lo psicofarmaco lo supporto questo forse può voler dire che c'è meno paura dello psichiatra cioè potrebbe esserci anche gente più appoggiata nel senso io vengo da te pensando che tu sia realmente la soluzione a ogni mio problema non cerco mai di dare una soluzione quindi forse proprio anche per questo che a volte alcuni probabilmente sperimentano anche dei vissuti di frustrazione perché si aspettano questo cioè l'obiettivo nostro non credo che sia quello di dare delle risposte quanto un modo di vedere magari le cose un po' diverso una rilettura poi la persona che dovrà ovviamente decidere alcune signore vengono da me e essendo frustrate perché hanno 80 anni però non mi sento tanto in grado di rispondere spera spera ma frustrate cosa vuol dire che stanno invecchiando che sono brutte che hanno le rughe che nessuno il marito non ha più voglia di consumare ecco non so il marito che potrebbe averne 90 a questo punto il marito o qualsiasi altra persona e quindi hanno delle forme depressive ma è molto difficile perché ok è un antidepressivo funziona sempre ma per risolvere i problemi della vita così grossi e nella prescrizione dei farmaci come sei? beh ovviamente io penso che il farmaco è fondamentale in quanto è il mio lavoro quello di insomma di avere l'approccio medico ho le mie idee credo di avere ho un'esperienza su alcune linee di trattamento che utilizzo un sacco in comunità un'osservazione a lungo termine dice io ho la torre la possibilità di curare un ragazzo e seguirlo anche magari in 12 mesi per vedere sì ho anche 24 anche 24 quindi mi ha fornito un'esperienza anche sull'uso dei farmaci sull'effettiva utilità di alcuni farmaci o meno sul fatto che l'approccio farmacologico serva o non serva voi l'avete mai preso i psicofarm? no io credo credo mi abbiano dato nella vita una volta sola tipo quattro gocce di N ma credo che il rapporto al mio peso fosse praticamente puro placebo quindi in aereo? no un attacco d'ansia generalizzato le benzodiazepine sono buone sono buone eh sì per quanto riguarda i farmaci esistono le mode? domanda difficile io non sono molto come si dice cioè io ad esempio come si dice quando una persona mediatore cioè sono un po' politically correct quindi purtroppo c'è molta ignoranza ecco diciamo così più che le mode secondo me nei professionisti c'è molta ignoranza quindi questo è imbarazzante perché quindi esistono le mode e ti piacerebbe darne il via ad una? dare il via a una moda farmaco una moda cura? la prosapina la dico meglio la comunità terapeutica d'autore si è specializzata in un certo trattamento di questi di persone tossicodipendenti con impulsività con aggressività disturbi diciamo autolesionistici con l'uso di un determinato farmaco in questione si chiama clozapina e negli anni ho avuto un sacco di soddisfazioni di persone date per perse che erano molto fragili e attraverso un percorso strutturato con la comunità riabilitativo che è terapeutico più i farmaci giusti hanno insomma siamo riusciti a fare un bel lavoro su tanti ragazzi insomma che funziona essere amici di uno psichiatra è pesante è pesante ma no io fuori dal dici fuori dal lavoro io non cioè un po' analizzo devo dire eccolo un po' analizzo però il problema è che tutti mi chiedono qualcosa è questo sì molti si sentono in diritto di potermi chiedere dei consulti o come si si comporterebbe in certe situazioni che fa piacere però insomma cerco un attimo di respingere di rimbalzare di dire guarda non è la sede magari tu sei amico di questa persona per le tue proprio per il tuo lavoro riesci a vederne qualcosa di tragico all'interno e cosa mi è capitato per dire con una ragazza che per me era troppo grave ma vita privata sì sì troppo grave come diagnosi cioè secondo me io l'ho subito inquadrata che inquadrata insomma facendo una diagnosi e dopo non sono più riuscita ad andare oltre dico questa è spacciata quella diagnosi lì mi senti da fare non è la lia comunque no beh allora posso per quelli che sono i tempi modernissimi di adesso qual è la casistica maggiore di diagnosi che ti capita di ritrovare si parla di narcisismo si parla di dipendenze da droghe si parla di disturbi del comportamento alimentare si parla di borderline cioè delle malattie psichiatriche più diciamo più vere tra virgolette proprio così più mediche più endogene cioè che vengono forse da una base genetica anche se non si sa tipo schizofrenia se ne parla molto poco no nell'immaginario collettivo si dice c'è il matto ma non è che ci sono dei programmi specifici adesso c'è tutta la parte della gente che si uccide della gente che ammazza quindi della violenza del sottoeffetto di sostanze dei narcisi ci sono delle varie trasmissioni sul narcisismo anche qui si va un po' a mode sicuramente i tempi sono cambiati quindi c'è molta aggressività e si cerca di dare un po' una spiegazione al motivo forse a tutta questa esplosione di aggressività che c'è nel mondo oppure se ne parla di più non lo so questo è la parte di un mondo adulto invece la parte di quel mondo più adolescente no? gli adolescenti secondo me sono molto in difficoltà c'è molto molto disagio siamo pieni di cover di persone anche piccoli minori e molto problematici si vedono persone che bevono che usano canne molto 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 presto quindi poi poi hanno famiglie magari distrutte il prototipo della famiglia che crolla quindi gli adolescenti insomma sono un po' in difficoltà io non potrei mai avere un figlio sarebbe molto difficile paura è casino sì uno dei casi magari che ti ha lasciato più impressionato per un rapporto età gravità del problema se penso agli episodi diciamo dove la donna fu tagliata a pezzi messa in freezer me la ricordo però non di due pazienti che seguivo quindi storie vere che ho vissuto e seguito ma non non lo so la mia mi tatuerei più di più le storie dei dei giovani tossici che stanno morendo e invece adesso lavorano hanno magari una fidanzata o vanno hanno la patente hanno fatto la pace con i loro genitori e sono successi lo dico perché sembra che a volte miracoli non avvengono nel nostro settore invece sì tatuaggi no? che cos'è il tatuaggio per te? non me l'ha mai chiesto è un non è una cosa tant'estetica perché ho iniziato a tatuarmi non nel 2020 ma nel 2000 ero ero già grandicello però non è che andassero tanto di moda cioè andavano molto meno di moda di adesso giusto quindi ho cominciato con delle cose per imprimermi un po' un'emozione quindi un evento piuttosto che un una situazione una persona una frase che mi fa piangere o che mi fa ridere e quindi tutte le volte che succede qualcosa l'ultimo che ho fatto è un un tatuaggio hindu perché sono stati in India e quindi ho vissuto delle esperienze abbastanza intensive a livello emotivo quindi sono tatuato alcuni simboli hinduisti sul petto e dei tuoi tatuaggi qual è quello che ti dà più emozioni? c'è un tatuaggio di allo spank grande il tuo papà si allo spank a prese il mare e tolce spank sono un po' io sei allo spank ti senti spank si adesso un po' cresciuto ma va bene ti sentivi spank si posso chiedere perché? perché è un sensibile piangeva un sacco che adesso mi viene da piangere non so perché forse perché vado via e mi dispiace comunque sei di nuovo spank in giro vagabondo? no spero di avere dei punti di riferimento se no con il sacchettino sulla schiena perché piange perché è buono però non c'hai la tipica faccia a forma di fetta di pane da tosto che era proprio la caratteristica di spank senti come ti senti a chiudere questa avventura di tanti anni qui a Modena ho l'idea di andare di fare un'esperienza di vita da un'altra parte da sempre avevo deciso avevo avuto la possibilità di andare a lavorare a Londra per lavoro e l'ho di andare a vivere l'onda per lavoro e l'ho insomma non l'ho presa tantissimi anni fa e me ne sono sempre pentito poi si era pensato dopo ho pensato alla Spagna una cosa o un'altra insomma un po' perché amo il mare un po' per vari motivi questa idea c'era poi è venuta Rimini perché perché Rimini è vicina perché è vicina ai familiari perché comunque è sempre non richiede un cambiamento totale perché c'è la piadina perché c'è il mare e nello stesso modo mi dà però la possibilità di cambiare completamente tutto cioè dal lavoro agli amici cioè alcuni rimarranno ma probabilmente ne farò degli altri è venuto anche il momento buono perché io e mio marito abbiamo cioè non si se lui lavora appunto da poca Modena e abita da poca Modena e si era appena inserito nel nel tessuto modenese quindi non voleva tanto spostarci perché ha fatto una gran fatica cioè una fatica comprensibile che fanno tutti quelli che cambiano città poi invece adesso un giorno un mesetto fa in macchina ci siamo guardati e mi hanno detto è il momento andiamo per tornare alla domanda mi dispiacerà un sacco e piangerò però ho molto una voglia di mettermi un po' in gioco di cambiare di essere anche stimolato la piadina vi aiuterà si dipende perché sono a dieta ecco al di là della dieta quale sarebbe la tua piadina preferita? come gusti? c'era una certa diatriba su quale fosse la vera piadina per quanto riguarda la riviera diatica perché c'è la formula un po' più spessa e la formula iper sottile quindi in base alle zone ti dicono che la vera piadina è quella alta oppure è quella bassa comunque lasciando stare sono sottile non mi interessa basta mangiare dei carboidrati intanto ecco e dentro salato prosciutto mi piace tutto ho un disturbo del comportamento alimentare ok quindi mangio tutto e di più anche molto oppure non mangio niente adesso sono nella fase onoressia ah l'avessi mai vista io la fase onoressia c'ho solo l'altra fase ti ho lasciato senza parole Cristian allora io direi che abbiamo fatto una bellissima conversazione noi ti abbiamo ascoltato molto volentieri e quindi grazie a voi di avermi chiamato insomma ho scoperto di essere nella testa di qualcuno oltre che sulle braccia grazie mille grazie e grazie a tutti vi aspettiamo alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti